allora 3 2 1 ciao a tutti ciao ciao marianna come stai bene 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 tu come stai bene bene guardo il mondo dalla finestra da un oblo come diceva qualcuno in italia mi annoio un po allora vogliamo innanzitutto ringraziare chi ci sta seguendo e supportando ricordando di che è importante appunto fare like fate like col ditino mi raccomando condividete il più possibile commentate e di sottoscrivere il nostro canale allora marianna oggi ci focalizziamo su due cose in particolare un po di raccomandazioni su come impiegare questo tempo utile e poi appunto abbiamo detto di evitarsi con amore speriamo meglio questo è bellissimo allora dicevamo abbiamo un sacco di tempo dove dobbiamo stare a casa e mi raccomando restiamo a casa esatto restiamo a casa punto primo partenza poi da casa possiamo fare una marea di cose dicevamo per esempio mettere un po a posto per esempio io adesso ve la butto lì c'è la luna nuova che sta arrivando la luna nuova è propizia per cominciare le nuove cose per sbarazzarsi del vecchio quindi io vi direi fate tanti sacchi tanti sacchi di roba che non vi serve più ma cominciate con le categorie perché se iniziate a buttare tutto diventa un casino allora che ne so dischi e pulite solo quella sezione poi passate alla sezione successiva foto poi passate alla sezione successiva scarpe no e via dicendo perché così ci riusciamo ad organizzare state tranquilli che un mese non vi basterà esatto come me o come tutte le donne del mondo esatto che iniziate oggi e finite quando usciremo dalla dalla quarantena c'è una una mia ex che aveva un perché mia con mia mi ha rivelato appunto che c'è questo scrigno che tutte le donne hanno che lei chiamava dell'inshallah cioè di tutti i vestiti che ti vorresti mettere no che hai comprato ma non ti entrano ma non ti entrano che non ti metti o che ti ha regalato qualcuno che adesso non puoi neanche più sentire parlare allora quello è un buon punto inizio però guarda ti devo dire ti devo rivelare questa cosa nessuna donna butterebbe mai un sogno del genere no perché il costume che adesso sta arrivando l'estate parti male se lo butti no e invece magari iniziando a buttare le cose possiamo iniziare a fare un po di detox un po di dieta perché so che abbiamo svaleggiato tutti quanti i supermercati io no io mi sono messa a dieta eh ragazzi oggi è il secondo giorno ufficiale di dieta quindi consigliamo anche io sto facendo sono sempre un po a regime ma come dire sto mangiando come una rivista ma come mangia sano non utili bene conto le vitamine le proteine e beh abbiamo tempo adesso possiamo farlo esatto e poi vi do un consiglio quando fate la pasta no ci sono i rigatoni gli spaghetti se li mettete a contarla come da dieta perché quando il dietologo ti dice ti do 50 grammi di pasta se tu ti metti a contare i tubetti ripassa il tempo quindi noi qua dobbiamo diventare ormai dobbiamo passare il tempo in qualche modo non so giochiamoci a tombola possiamo fare qualcosa secondo me perché se no il tempo non passa mai ma in realtà non è vero no si può utilizzare molto come dire appunto dicevamo organizzare il guardaroba no ci sono un sacco di tutorial anche per maschietti e ragazzi non è che voi siete senti ci sono un sacco di tutorial dove puoi organizzare le tue camicie le tue cravate le tue giacche magari scopri di avere un giubbotto vintage che adesso è vintage no ragazzi guardate che io l'ho fatto e da da maschietto ovviamente ho detto vabbè ma che sto a fare invece poi al di là che no vai giù per memory line no perché sai che come maschi ci piace molto più noi teniamo la roba più per collezione no la maglietta di batman che ho preso a quella lontano nel 1998 e ragazzi è divertente è divertente e io consiglio di farlo perché è un ottimo modo per get ready che quando questo è un applauso meriti un applauso stile al nome di tutte le donne mi sono commossa credimi questo è un modo per salvare i matrimoni esatto hashtag salviamo i matrimoni salviamo i matrimoni come l'uomo che riorganizza l'armadio signori e la svolta mondiale lo so e lo so ma no perché sai il discorso è sempre questo che c'è agli uomini bisogna parlare in un certo modo no perché per un uomo la sua mascolinità è importante no per cui è chiaro che se uno lo vede in un certo modo è chiaro che un uomo non non si relaziona no va vista la cosa in termini maschile anche ovviamente l'uomo italiano è già molto più stiloso praticamente del resto del mondo no però diciamo si può sempre fare meglio questo è il discorso no esatto oppure diciamo visto che siamo tutti sui social no andiamo indietro un po a vedere le nostre foto no organizziamo le nostre foto mettiamo nelle cartelle dividiamo per per anni e location e così visto che ormai viviamo sui sui social e anche una parte importante del business no questo è un altro modo con cui si può impiegare il tempo e credetemi io che lo faccio di professione e che mi sono messo a editare come un pazzo ho scoperto di avere foto bellissime no che non avevo mai e adesso sto editando e le sto mandando alle persone appunto lo sto facendo come cosa diciamo no e soprattutto perché faccio fashion no e io non faccio photoshop perché mi piace sempre la bellezza autentica io uso lightroom non uso photoshop perché mi piace cogliere le imperfezioni poi ci farai una lezione su questo sì sì e l'ho mandata questa ragazza appunto che ho conosciuto perché lei legge i tarocchi no non non finisce di ringraziarmi ma io non lo sapevo che ero così bella brava hai taroccato la foto perché uno non ci crede ma il discorso è che facendo le cose giuste come dire abbiamo tutti delle cose belle dei nostri tratti della nostra personalità che esprimiamo che in una foto può venire fuori quindi sono d'accordo andiamo a riscrivere le foto sono d'accordissimo per la bella idea vedi altra cosa da fare non ci avevo pensato esatto mentre volevamo parlare appunto di come l'abbiamo chiamata questa rubrica intarsi con amore perché penso che ce l'abbiamo un po tutti questo problemino che adesso mariti e moglie stanno a casa tutto il tempo no sì allora aspetta voglio fare una piccola parentesi seria e parlare di una cosa perché in questo periodo purtroppo so che ci sono tante donne tante persone costrette a stare a casa con altre tante persone violente e devono subire e sopportare ci sono tanti numeri verdi a cui chiamare però purtroppo la situazione è difficilissima noi li stiamo vicino ecco detto ciò passiamo alla parte invece ironica come evitarsi con amore esatto perché abbiamo detto è importante mantenere le routine perché sappiamo tutti che è salutare avere i propri spazi e le proprie distanze ma oggi che queste distanze sono estremamente ravvicinate io lo vedo con mia moglie dove di solito un marito per definizione fa tutto sbagliato da come da come mette i bicchieri sulla tavola a come chiude gli sportelli della cucina scopri di fare cose male che non avevi idea vedo che c'è che non c'è solo in italia questo problema è globale no esatto per cui diciamo io direi alle mogli un po take it easy no cambiamoci non rilassiamoci ok consiglio numero uno esatto calm down rilassiamoci ok ai mariti di come dire non prendere questa cosa a livello personale no sono il discorso è che sono tratti dove considerate che magari appunto una moglie ha sempre a che fare con le cose di casa sempre a che fare un po di più con i bambini questa attitudine un po da sergente è funzionale a ruolo no e di solito tu non sei tra i piedi no perché di solito si fanno un po più danni quando ci sono gli uomini tra i piedi quindi mogli lasciamo stare un po i mariti e mariti insomma non prendiamo a livello personale ecco quindi primo consiglio è questo secondo consiglio ritagliamoci gli spazi esatto quindi non stiamo incollati come cozze perché finiremo per litigare esatto quindi se c'è un divano se c'è anche il bagno ti fai un bel bagno di un'ora con i tuoi sali i tuoi profumi e te ne stai per i fatti tuoi per un'ora e altra cosa accordiamoci accordiamoci sul sullo schedule no perché se siamo vogliamo ascoltare della musica no o vogliamo giocare videogiochi parlo dei maschi vogliamo guardare i nostri video su youtube no la cosa più fastidiosa che ti arriva la moglie e ti dice che stai facendo sul divano dammi una mano a fare questo allora se come mogli vogliamo che i nostri mariti ci danno una mano decidiamo quell'orario al giorno dove dove chiedi a tuo marito ho bisogno di te aiutami no allora chiediamo ai mariti lanciamo questo messaggio alle mogli mariti avete un'ora di youtube in cambio delle pulizie in cucina io questo scambio lo farei esatto giusto giusto scherzi a parte forse dobbiamo cercare di rilassarci tutti quanti nel video precedente avevamo parlato di come fare meditazione esatto che forse può aiutare quindi ritagliamoci i nostri spazi no troviamoci degli dei momenti delle cose da fare da soli e poi quello che possiamo condividere mi raccomando con tutta la calma del mondo chiediamo sempre per favore che la base brava questo è quello che ieri ho fatto mia moglie mi ha chiesto mi ha detto il volume della televisione è alto e io ho detto è lo puoi abbassare e per favore ok per favore la chiave di lettura della salvezza per tutti noi la gentilezza ci salverà perché se uno comincia a dire ecco mi urli sempre dietro e tu non fai mai quello che ti dico e tu non mi ascolti mai e io non mi volevo sposare e tu mi hai cascato allora hai mimato perfettamente secondo me la casa stanno ridendo un po però siamo seri perché in realtà siamo non bisogna fare escalation non bisogna seguire l'escalation dei sentimenti no e intanto stiamo restiamo a casa e stiamo calmi prima cosa ritagliamoci gli spazi meditazione tanto tanto per favore grazie eh esatto ottimo evitarsi con amore quindi questa cosa mi dicevi proprio a casa per te fino adesso tutto ok tutto ok però io ho il giardino ho un giardino grande quindi io ho un bel giardino grande non mi posso lamentare no no l'importante è avere rispetto sempre dell'altro esattamente e un altro piccolo consiglio che che l'altra volta appunto abbiamo detto un po di meditazione un pensiero flash che ti fa stare bene il cielo è sempre blu sopra le nuvole per cui anche se tu vedi il cielo coperto anche se vedi che è nuvoloso così ricordati che sopra quelle nuvole il cielo è sempre blu quindi lo stato di benessere è sempre lì la felicità è sempre lì e che a volte la puoi vedere meno o non la puoi vedere ma la felicità è sempre lì quindi deve avere sempre questa fiducia dentro di te stesso che che lo stare bene è lì anche nei tempi più bui ovviamente siamo tutti sulla stessa barca in questo momento quindi da New York all'Italia vedete ragazzi stesse cose stesse disturbi mentali sottolineerei io diciamo oggi però con i social e con i video possiamo possiamo relazionarci a molto di più oppure che ne dici dell'idea di magari cucinare qualcosa assieme ah beh sì anche se se lì pure forse qualche morto ci può scappare perché non è così che si taglia la cipolla si taglia trasversale troviamo un modo di può essere può essere una cosa nuova per le coppie riscoprire di fare le cose in due oh guardate ragazzi io lo faccio sempre con mia moglie non solo il divertente anche sexy ve lo dico è così però scopri cose che non pensavi invece diventa una cosa sexy diventa una cosa intima no ci insomma provateci perché vedete che di nuovo se lo fate appunto visto che è una cosa che implica avere i coltelli in mano andiamo parlando di attenti andiamo a lanciare però un po' meno sexy tagliare le cipolle quindi tagliate le carote esatto diventa il muro della cucina del pianto no dai condividiamo con la ritagliamoci i nostri spazi però poi condividiamo le cose belle tipo la cucina esatto quindi speriamo di aver regalato qualche sorriso ovviamente vi ringraziamo sempre per il supporto grazie vi chiediamo se vi è piaciuto il video di condividerlo di fare like di lasciare i vostri commenti di dirci voi che insomma com'è che state gestendo il rapporto di coppia e ci vediamo presto mi raccomando fateci sapere dateci il vostro feedback noi vi aspettiamo ci vediamo al prossimo video intanto tante grazie anche per i sorrisi che ci hai dato restiamo a casa restiamo a casa e laviamoci le mani sporcaccioni no guarda su questo credo che in Italia siamo messi bene dai è finita la mucchina ovunque quindi ci si lava ci si lava va bene un abbraccio a te ciao a tutti ciao 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 ciao